E ora ragazzi Il sito dei pesci Mi sa che l'abbiamo già visto Te la faccio al volo Manu ti ricordi gli accordi per palle Fahrenheit Chi è quello frate? Io Il mio vecchio lò Oddio No frate sopra ci dovrebbe essere il migliore Però hai sbagliato Hai ragione Ivan che è sempre tu è bentornato E' così il signore sta sempre sopra ricorda Non ce n'è per nessuno bro